È dedicato alla mobilità il secondo laboratorio di Pordenone più facile, serie di incontri aperti a tutti, finalizzati alla raccolta di materiali, opinioni, visioni ed esperienze per la redazione del nuovo piano regolatore. Sabato 13 ottobre, dalle 9 alle 12, a Palazzo Badini, i gruppi di studio saranno impegnati ad indagare ed approfondire tematiche legate alla mobilità delle idee, alla funzionalità dei flussi e connessioni d'aria vasta, alla pedonalità e ciclabilità pluriutente. Bambino, anziano, disabile, alla fruizione del mezzo pubblico. Siamo arrivati al terzo incontro per il percorso partecipato del nuovo piano regolatore. Sabato, dalle 9 alle 12.30 a Palazzo Badini, parleremo di M come mobile, parleremo della mobilità delle persone e delle idee all'interno della nostra città. Nei vari laboratori verranno affrontati in molteplici aspetti di questo tema, quindi aspettiamo i cittadini. In più sabato abbiamo una novità. La cooperativa Itaca offre al comune di Pordenone e ai cittadini un punto gioco per i bambini a piano terra di Palazzo Badini. E quindi i genitori che vogliono partecipare hanno anche questo aiuto e questa facilitazione nel poterlo fare, sicuri che i loro figli nel frattempo verranno ben accuditi e si divertiranno. Vi aspettiamo sabato a Palazzo Badini. Anche il pomeriggio saremo lì per confrontarci e continuare a ragionare sulla città mobile e sostenibile. L'attività proseguirà anche nel pomeriggio, con sessioni di lavoro più informali ed autogestite. In tal modo, chi non ha potuto prendere parte agli incontri precedenti potrà visionare le sintesi e dare il proprio contributo. Le attività e tutte le discussioni passano per la pagina Facebook del comune di Pordenone e sul profilo Twitter dell'amministrazione. Su YouTube si trovano i video realizzati nel corso delle attività di Pordenone più facile. Nelle pagine web dedicate sono disponibili tutti i documenti prodotti.